Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappara e oggi siamo in un nuovo video. Oggi vi voglio raccontare una cosa importante che riguarda il mio canale YouTube. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video vi racconto in breve perché nel mio video, che è questo qui, che vi faccio comparire in sopra, impressione, si vedono delle pubblicità, prima che parte il video. Parto dal dire ragazzi, che non sono io a controllare queste pubblicità, quindi non sono io che decido gli annunci, ma è YouTube che decide le pubblicità da mettere sopra quel video. Quindi io ragazzi, vi dirò poi una cosa che ci tengo a precisare, ma preferisco tenerla per la fine. Allora ragazzi, praticamente che succede? Voi andare a vedere questo video, che è un tutorial su come risolvere le problematiche di Google Play, tra l'altro è il video più visto del mio canale YouTube. Praticamente succede ragazzi, che prima che parte il video, vedete degli annunci pubblicitari, che poi, volendo, si possono saltare, perché in alcuni appare 5, 4, 3, 2, 1, e poi il tasto qui, per saltare l'annuncio e andare direttamente al video. Ragazzi, io non ho la monetizzazione, manco mi interessa farla, perché non ci voglio guadagnare niente. Io basta che aiuto il prossimo, già questo è il gesto più bello che posso dare al prossimo, e non mi interessa guadagnarci. Tra l'altro, io da questi annunci non ricavo niente, zero. E ragazzi, quindi, mi dispiace, se vedete degli annunci, non è colpa mia, ma decide YouTube. Bene ragazzi, con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!